L'Anteas, associazione di volontariato e di promozione sociale, ha proposto per il secondo anno consecutivo un protocollo d'intesa con la Ust CISL di Bari e l'Istituto Superiore Vivante per il progetto di alternanza scuola-lavoro con gli studenti delle terze classi dell'istituto. La CISL nel programma intende così orientare gli studenti che vogliono acquisire competenze specifiche sulle diverse attività svolte in ambito sindacale, nonché in ambito categoriale. A loro disposizione uno spazio aperto di approfondimento e di confronto, un percorso pieno di incontri che vede la partecipazione attiva dell'Anteas provinciale di Bari insieme ad altri enti e istituzioni, per far comprendere ai ragazzi l'importanza del volontariato e soprattutto come il sindacato, grazie ai suoi servizi, oggi è vicino alle necessità dei lavoratori, dei pensionati e di tutti coloro che hanno difficoltà a districarsi nella burocrazia. L'iniziativa è stata presentata da Antonio Cavazzoni, presidente Anteas Bari, Giuseppe Boccuzzi, segretario generale CISL di Bari e Giuseppina Lotito, dirigente e scolastica dell'istituto Tridente. Questa è un'iniziativa che come associazione a Bari è il secondo anno che rinnoviamo, abbiamo avuto un'esperienza già l'anno scorso, quest'anno la stiamo consolidando al di là della legge 107 del 2015 che consolida questo aspetto, ma si tratta di vedere in termini generazionali il rapporto tra anziani e giovani, perché questo è un mondo tutto da scoprire e quindi rispetto a questi obiettivi noi riteniamo insieme alla CISL, insieme alle federazioni, il rapporto che intendiamo dire attraverso i servizi e attraverso le opportunità del lavoro. La CISL scuola con le sue strutture promuoverà la formazione del sistema tutoriale per monitorare le attività e verificare obiettivi e competenze acquisite. Il progetto che coinvolgerà 15 studenti avrà inizio il 30 maggio e terminerà la sua prima annualità il 20 giugno 2016.